Michela Morandini, presidente dell'osservatorio sui diritti delle persone con disabilità. Oggi ci troviamo qui, facciamo la quarta riunione dell'osservatorio, ma la prima dopo il lockdown. Questa è una riunione importantissima, perché durante il lockdown ci sono stati grossi disagi per le persone con disabilità e proprio di questo abbiamo parlato nella riunione di oggi. Inoltre abbiamo invitato la direttrice del centro tutela consumatori, la dottoressa Powerhofer, che ci ha illustrato un progetto sull'inclusione di persone con disabilità in Alto Alige.